musica eccolo e fai gol eh ragazzi la posizione subito 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 tocciamo faclielo tieniamo forte un ultimo ragazzi Ehi, 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 ehi. Ehi, 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 ehi. Ehi, ehi, ehi. Ehi, 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 e questo cazzo di pressing nolli, Domenico uno al massimo ma non se lo fate da dopo abbiamo un po' bravi 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 prendiamo un altro prendiamo un altro ragazzi che cazzo è così però vai vai no la gara ancora no aspetta grazie uno vado se lo vieniOnce mai com'è uscita no bravo due contro uno dai Grazie!